Siamo partiti con niente, siamo arrivati fino a 12 carri quest'anno un pochino di meno perché non abbiamo a Qualagna che non è potuto venire se no avevamo anche loro 2-3 carri che sono sempre venuti tutti gli anni abbiamo un carro che ha 80 persone, 80 sono, bellissimo, più di così non si può avere quando dieci anni fa gli organizzatori del carnevale di Fossombrone pensarono a questo evento non immaginavano di certo a quello che oggi è diventato 6 carri allegorici, gruppi mascherati e quintali di dolci riversati sulla folla inoltre centinaia di persone impegnate Fossombrone risponde molto bene, non è solo merito della Proloco a Forum Semproni ma comunque di tutti i quartieri, dei giovani che collaborano con noi l'amministrazione naturalmente ci aiuta e tutti questi enti sono riusciti a trovare un dialogo che poi mettiamo in pratica non solo a tavolino ma lo mettiamo fisicamente nei programmi che attuiamo ogni mese qui a Fossombrone ma lo mettiamo fisicamente nei programmi che attuiamo